Un premio per le buone notizie anche se in questo periodo di buone non ce ne sono molte, come si fa? Riusciamo a trovarle comunque soprattutto negli spazi di approfondimento perché sai che il telegiornale comunque ci obbliga a stare sulla cronaca e vale ancora il detto che good news no news, però devo dire che negli spazi come Tg2 Storie, anche molto avanti nella notte, riusciamo a dare spazio all'associazionismo, al volontariato, a storie assolutamente lodevoli e emblematiche nel senso positivo del termine. Qual è l'ultima buona notizia che hai dato nei Tg? Nel Tg diamo delle buone notizie che riguardano soprattutto il nostro saper fare del buon cinema, della buona moda, del design, degli imprenditori di successo anche in questo momento di crisi che riescono a trovare con la loro genialità, originalità, capacità creativa comunque un loro spazio anche in questo momento di mercato molto difficile e competitivo. Ma al di là di questo io penso che è sempre nello spazio creativo del giornalismo quello di compensare le notizie doverose su quello che accade nel mondo della cronaca nera e comunque anche nella politica e nell'economia che ci preoccupa in questo momento e compensarle con le buone azioni che tanti cittadini silenziosi ogni giorno compiono. E su questo premio qui a Caserta? Questo premio è per me un grande orgoglio e anche per il mio giornale perché tutti insieme facciamo un prodotto di cui siamo veramente operosi team maker perché facciamo un prodotto collettivo che offriamo al pubblico sperando sempre di dare una pillola di approfondimento in più anche nel telegiornale, anche dove lo spazio è risicato. Adesso abbiamo cominciato una campagna a favore della ricostruzione dell'Aquila, parliamo dell'Aquila almeno due volte alla settimana dimostrando come a tre anni dal sisma ancora le persone aspettino l'autorizzazione a ricostruire, a rientrare nelle loro case e noi vogliamo dimostrare quanta arte e quanta storia vi sia nella zona rossa oggi ancora chiusa al pubblico e al traffico quanta umanità debba essere recuperata e noi pensiamo che la ricostruzione dell'Aquila possa essere simbolica di quello che l'Italia può e deve fare.